bella a tutti ragazzi sono il primo episodio di videocop e oggi farò di nuovo un video su rainbow per una modalità realistica un po' più difficile ieri è uscito un episodio che poi ha durato 3 minuti e solo 3 minuti quindi oggi ne farò un episodio da 10 vorrei fare un modo diverso questa missione farla molto più stretta per ieri più piccolissimi un po' più un po' più movimentata userò anche il drone vediamo un po' nemmeno vuol non 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 punto bene adesso la visuale da là vi estimo che mi piazzerà stento sul tetto sdraiato e sparerò agli unici così che è pure niente sembra nella camera giusta mi sembra è al piano di sotto è al piano di sotto ancora non mi sembra non 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 cosa dovremmo fare molto veloce dovremmo fare in modo verita nella stanza a Qua c'è qualcuno? Non mi sembrano i fatti. Cerchiamo un po' ancora qua, se no posso venire a cercare, ecco un momento, altri due addirittura. Un quarto. Cerchiamo un primo, però non mi è già bloccato. In una maniera un po' così. C'è un drone lì dentro di quanto è caduto, di nulla. Lavori, facciamo tutto sto percorso. Mi fa perdere assolutamente l'unico. Ricordando che siamo in un'unità realistica. E' molto più difficile. Sono tutti morti. Quindi ho già potuto entrare e scappare con l'ostaggio. Quindi lo faccio. No, no, ci sono nemici, Rai. Ci sono nemici. Dove sono? Non capisco. Dove sono? Non capisco. Dove sono? Non capisco. Buono. Sto facendo molto stentro. Aiuto. Mi ragazzi. Ci sono... Ci sono nemici. Aiuto, sono morto. Era molto difficile. Mi sono morto, ragazzi. Era troppo difficile. Ci riproverò. Era troppo difficile. Mentre uccidevo l'altro, l'ho ucciso me. No, mi sa che ho soltato un'altra simulazione. Vabbè, facciamo questa. E a parte che su questa mi sono bloccato. Non riesco a passare. Qui ho da smog. Questa è una delle lezioni finali. Ci li possiamo dare un'area realistica ancora di più. Allora, qua. Per avere un po' di visuale. Tiro in su. Bello. Eccola. Qui piazzo un, cinquattro in posizione. Qui piazzo un, cinquattro in posizione. Qui piazzare. Qui piazzo un, cinquattro in posizione. Qui piazza un'area realistica. Qui piazzare. Qui piazzare. Qui piazzare. Sì. Sì, sono morendo per il mio abbono che muoge la torsica, muore. Sì, è difficilissimo questa ragazza. Non è che sono un... Sì, è difficilissimo questa ragazza. Adesso ricorderò. Ci sono tre round, quindi hai voglia. Provo comunque a cercare di soffermire. Già, ci sono altre due barricate. Non c'è il muro, non c'è la barricata. Ho distrutto da un gadget squadra, forse. E' ogni fatto. Non è arrivato. Uno in alto. Uno in alto. Ma no! Mi è ucciso, ragazzi. Mi può avere uno un po' più semplice. Di nuovo, aspettate. Adesso, ragazzi, faccio un'ultima missione che avevo detto. E' un po' più difficile. Che è la più facile, volevo dire, scusate. qui è il shot. Ecco, pesce. Allora, adesso facciamo così, esplode, visto che sarà disorientato, più action. Quindi finisci dentro, esplode, disorientati, non solo, qua, vediamo qui, entriamo, non ha per bisogno. Bella ragazzi, è finito il video.